Benvenuti, cari follower, a questo nuovo video e alle notizie molto gioiose per tutti gli amanti del freddo e del clima invernale per eccellenza, prima di entrare nei dettagli come al solito, non dimenticate di sostenerci e motivarci con ammirazione per questo video e condividerlo con tutti a diffondere la capofila, se gli aggiornamenti saranno ancora costanti e come vi avevamo precedentemente assicurato, a partire da martedì e mercoledì 14 e il 15 marzo 2023, registreremo il ritorno della neve e della pioggia con forza verso tutte le regioni del nord, centro e anche sud Italia, e potremmo assistere a forti nevicate, soprattutto al nord e al centro con precipitazioni molto importanti, oltre a questo assisteremo ad un sensibile abbassamento delle temperature, in tutte le regioni, e questo è dovuto a quanto detto, della fuoriuscita di aria fredda proveniente dal polo nord, e la neve cadrà a quote basse, anche in pianura e a quote medie, e come ho detto, sembra un caso molto forte, e dettagli più accurati che cercheremo per fornirvi nelle prossime ore, e speriamo che questi aggiornamenti cambino in meglio e non il contrario. Siate ottimisti e aspettate, poiché mancano solo pochi giorni e l'inverno tornerà prepotentemente in Italia.